Sport, musica, arte, cultura, cucina e tante altre iniziative saranno al centro del settimo Festival dei Laghi che si terrà a Diseo dal 27 maggio al 2 giugno. Alla manifestazione saranno rappresentati una quarantina di laghi italiani e otto paesi europei. Il sindaco Diseo, Riccardo Venchiarutti, ha presentato l'evento parlando anche delle novità. Si conferma la vocazione europea di questa nostra manifestazione anche perché, come noti, Diseo è capofila di questo network che si chiama New Lakes che coinvolge una decina di laghi in Europa e poi naturalmente la mostra mercato che è il cuore di questa iniziativa e che propone un'ottantina di produttori agricoli delle zone intorno al lago di produttori artigianali. presentiamo una guida ai piccoli produttori di olio d'oliva del lago Diseo, promossa dal comune Diseo e da Aipol e poi tutta una serie di manifestazioni culturali, concerti, manifestazioni sportive. Insomma, è davvero un'occasione per venire a Diseo e passare un bel periodo nell'attesa poi di quello che sarà l'evento dell'anno, cioè di Cristo. Beh, l'obiettivo è di confermare i buoni risultati degli anni passati e sarà certamente un test sul Floating Peers. Noi già metteremo appunto in questo weekend lungo, metteremo appunto quello che sarà poi l'impatto. Avremo un'idea di quale sarà l'impatto durante il periodo di Cristo.